Lettere in ritardo mai consegnate. Da quando la posta viene recapitata a giorni alterni o poi in tutta la provincia di Arezzo si sono registrati numerosi disagi. Così il sindaco di Civitella in Valdichiana, Ginetta Menchetti, con forza è stata la prima a denunciare questa grave situazione decidendo di scrivere a poste italiane. È un bel problema, lo abbiamo sollevato da tempo, prima con contatti diretti con i referenti e nei giorni scorsi ho deciso di fare una lettera ufficiale proprio per reclamare questo disagio che ormai è insopportabile sia da parte dei singoli cittadini che da parte dell'amministrazione. La corrispondenza arriva con notevolissimi ritardi, spesso arrivano bollette già scadute, i cittadini sono anche quindi poi gravati delle relative sanzioni e more. Questo diventa davvero insostenibile quindi chiediamo con forza come sindaci, come pubblica amministrazione che le poste rivedano la loro organizzazione e che la consegna torni ad essere una consegna giornaliera. Ritengo di portare la voce di moltissimi sindaci perché il disagio è proprio allargato a tutta la provincia di Arezzo. Probabilmente a Civitella il problema è ancora amplificato, noi abbiamo subito anche, abbiamo dovuto subire anche la chiusura di uffici postali come quello di Civitella, di Cigiano e questo ulteriore disagio veramente non ce lo possiamo permettere. Quindi con forza ho deciso di esternare questo problema. Il sindaco di Civitella Menchetti e altri 12 sindaci della provincia hanno sottoscritto simbolicamente un'interrogazione parlamentare presentata dalla senatrice del PD Donnella Mattesini e rivolta al ministro per lo sviluppo economico. La risposta arrivata non soddisfa. Comprendiamo l'esigenza di attendere la piena implementazione del nuovo modello organizzativo di poste italiane, afferma l'onorevole Mattesini, così come la necessità di un confronto con le regioni, ma questi elementi hanno tempi incompatibili con le esigenze dei cittadini. C'è bisogno che il governo metta in campo tutta la sua autorevolezza. Ci riserviamo di agire direttamente nei confronti di poste italiane e della Gcom.